Buonasera dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda lo scambio di carreggiata a causa di lavori tra Monte Regioni e Siena in direzione Siena. Scambio di carreggiata anche sulla statale Trebiz e Tiberina a causa di lavori tra Madonnuccia, Poi Giolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. Uno sguardo a Firenze, cantiere della linea 3 della tranvia, si ricorda che sarà chiuso fino a domani il transito nel sottopasso ferroviario di via dello Statuto a causa del rifacimento delle volte. Uno sguardo al traffico aereo, il volo Alitalia, Firenze-Düsseldorf, con partenza prevista alle 17.35, decollerà alle 18.00, mentre il volo Volotea, diretto da Pisa-Palma di Mallorca, con partenza prevista alle 18.05, decollerà alle 18.35. Muoversi in Toscana Info, realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!